L'amministrazione comunale di Gandino ha approvato proprio in questi giorni il piano di governo del territorio, uno strumento fondamentale, necessario, che punta ovviamente alla conservazione di un paese che ha una storia così importante, testimoniata dallo stesso suo centro storico, ma che sicuramente ha anche delle altre linee guida interessanti. Ce le vuole illustrare? Riteniamo un PGT abbastanza innovativo, abbiamo fatto nostre tutte quelle che erano le indicazioni e suggerimenti della legge 12, quindi lo consideriamo nuovo. Abbiamo cercato di fare il maggior contenimento delle aree, non creare espansioni. Purtroppo il nostro paese in questi ultimi anni mantiene lo stesso numero di popolazione con un'oscillazione media di 5-10 abitanti e quindi non era certo il caso di aggiungere aree fabbricabili alle già esistenti. Abbiamo introdotto il concetto di perequazione, che è una forma che abbiamo ritenuto assolutamente giusta, in quanto consente anche a coloro che verranno coinvolti nel dover cedere aree al comune per strade, per parcheggi, per allargamento strade. Si è individuato questa perequazione dotando questi terreni di una volumetria che potrà essere trasferita alle aree edificabili e quindi avere loro una certa compensazione. Abbiamo mantenuto tutte le aree industriali senza pensare di eliminare i capannoni, perché oggi sono vuoti, domani c'è la speranza che possano essere riempiti. È stato difeso e aiutato il commercio, e prova ne è al di là del PGT, il distretto del commercio, quindi l'attenzione che l'amministrazione ha dato al commercio. Abbiamo pensato di acquisire, attraverso accordi con i cittadini, delle aree verdi, in modo da poter dare garanzie al comune di possedere queste aree, in parte destinarle a parchi e parte a protezione del centro storico per continuare a mantenere e portare nel tempo quello che è la cortina di Gandino, che è un fatto che pochi altri comuni hanno. L'adozione che l'approvazione sono stati due momenti di confronto anche con le minoranze. Ci sono stati punti di non condivisione, tuttavia devo riconoscere che anche la minoranza, pur facendo la sua parte di contestazione, in buona parte, anche se non posso dire condiviso, ma comunque con l'astensione, ha dimostrato di non essere contraria alle scelte che abbiamo fatto e questo alla fine è un fatto importante anche perché questo PGT non verrà utilizzato da me in quanto a mesi io ho finito il mio mandato, ma di fatto diventerà lo strumento che il nuovo sindaco dovrà mettersi a gestirlo e quindi speriamo attrarne i benefici che contiene questo nuovo PGT.